Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy. Viaggio nei mondi della voce. Di Pino Insegno. Ben tornati e benvenuti, signori miei, domenica 12 novembre, 14 in punto, anzi adesso è un minuto, cominciamo la nuova puntata di Voice Anatomy. Anche oggi bellissime voci, bellissime sorprese che riguardano proprio il nostro mondo, declinato in tutti i suoi meanti. Volevo cominciare soltanto rubando un minuto alla trasmissione e all'amico che già ci ha raggiunto qui al mio fianco, un attore doppiatore professionista straordinario, perché vorrei essere tanto cruciani oggi per cominciare, nella maniera giusta. Ma il signore, e so che dare per due, replicare una notizia significa darla due volte, non smentirla, però io mi sono un po' scocciato nel senso che il dottor Aldo Grasso ha veramente rotto il casso, ma in una maniera profonda, profonda, perché una critica va gestita, va messa e dall'altra parte può essere costruttiva per cambiare un po' il modo di portare avanti una trasmissione o qualcosa. Ora lui credo che mi abbia preso di punta per un motivo di nascita, non so, forse perché sono della Lazio, forse perché sono nato a Roma, non lo so, non so il motivo per il quale lui sia sempre incattivito anche rispetto a delle cose che hanno un clamore importante, ma importante non soltanto nazionalpopolarismo, voglio parlare di questo perché magari non è detto che 12 milioni di persone che ti danno un plauso tu abbia la ragione completa, però non è detto neanche il contrario, insomma, perché le critiche sono state fatte alla mia vita da parte di questo signore sono state sempre molto gratuite, senza un occhio per vedere chi ero veramente, che cosa stavo costruendo, da dove è partita la mia carriera e per quale motivo, per gli stessi motivi per cui tu distruggi me e esalti un altro, senza fare nomi perché poi magari l'altro ne ha ben donde di essere orgoglioso perché è bravo, sicuramente, ma non possono essere gli stessi motivi, sei vestito di rosso, mi fai schifo, che bel vestito rosso, è questo il fatto che è insopportabile. Criticare questa trasmissione ci sta, tutto ci può stare e ci sono state delle critiche anche belle, costruttive da parte di persone che con me interloquiscono attraverso l'osmosi dei messaggi e tutto, per cui Pino fai parlare di più gli ospiti, leva la parola io, cerca di essere più presente, correggendomi nei sinonimi e nei contrari. Tutto, tutto ci sta ed è giusto affrontarlo e capire se è vero e per migliorare. Dare addosso a questa trasmissione è gratuito, una trasmissione che sono tre stagioni, è l'unica nel suo genere, è una trasmissione che offre, sì, il ludico, il divertente, il leggero, ma non una leggerezza come superficialità, ma una leggerezza calviniana, almeno così Aldo Grasso capisce quello che sto dicendo, una leggerezza che può essere affascinante per le persone dall'altra parte della radio che ascoltano la voce, la voce che è la cosa più evocativa, è l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo, per cui parlare con attori, con doppiatori, curiosità importanti sul mondo del cinema, andare dietro le quinte della voce, non soltanto, ripeto, dal punto di vista ludico e di curiosità, che può essere quella di conoscere chi dà la voce a un corpo importante, ma cantanti, ma non solo, qui si sono alternati personaggi di un'altezza enorme, molto, ma molto più grandi di me, Aldo Grasso dirà sicuramente, è facile essere più alti di te, però sono persone alle quali ho dato voce in tutti i sensi, parlo di vocologi straordinari come Diego Cossu, questi tutorial costanti del grandissimo che ci ha seguito fino adesso, fino alla scorsa settimana, c'è Albert Era, insomma fare più di 500 nomi mi sembra ridicolo, per cui una trasmissione che ha vinto anche dei premi non dati per raccomandazione, eccetera. Io vorrei essere molto volgare, ma vorrei essere impossessato veramente dalla spontaneità e dalla sprezza e dalla forza che c'ha l'amico Giuseppe Cruciani, perché pane pane, vino al vino, vorrei veramente un confronto, l'unica volta che l'ho incontrato ha abbassato lo sguardo e non mi ha anche guardato in faccia, senza problemi, ma soprattutto perché so, carissimo Aldo Grasso, ogni tanto non gli scrivi neanche te tutti gli articoli che scrivi, addirittura una volta, visto che non soltanto tu c'hai delle talpe in studio, anch'io ho ricevuto una critica su una mia trasmissione prima che uscisse quella trasmissione e visto che quella trasmissione ha fatto successo, quella critica è uscita dopo, al momento che magari ha rallentato e allora l'ho letta, identica, quando vuoi, pronto ad affrontarti perché l'ho tenuta, con tanto di data, pensa, per cui non ti conviene neanche affrontarmi da quel punto di vista, ma poi mi devi dire veramente che ti ho fatto, ma me lo devi dire, forse sei rimasto male perché non hai raggiunto gli obiettivi nella tua vita che ti eri prefisso, quello di essere magari un direttore di Rai 1, di essere il direttore generale di Rai, di essere a capo di qualcosa e invece ti è toccato far l'arbitro, volevi giocare, volevi giocare, volevi segnare e invece te purtroppo devi soltanto scrivere chi ha segnato e qualcuno ti sta pure sul cazzo che segna e dici insieme e ridava il gol, quello fai grasso, grasso veramente quando vuoi, come vuoi, sia in radio che per strada, quando vuoi, sarà che oggi c'è il protagonista di Suburra, mi sento un po' coatto, però veramente mi sto trattenendo, ti posso dire mille cose che hai fatto che non erano giuste, hai anche criticato un momento della mia vita importante dicendo ha fatto bene ad andarsene da casa, questo non te lo perdono, non perché sia andata via da casa o chissà cosa, ma che c'entra su un giudizio televisivo, un giudizio di vita familiare, guarda tante cose, poi te sto sul cavolo, non te piaccio, sti cazzi, guarda altro, cambia canale, soprattutto prima di criticare una trasmissione come questa, cazzo, sentite almeno 10, 20 puntate, cazzo, fallo, vedile e parliamone, dimmi che cos'è che non va, ah, Dio, va bene, chiedo scusa, ho utilizzato per la prima volta un veicolo media per cose personali, ma veramente è vero che abbiamo quasi 200.000 persone che ci seguono e ci vogliono bene e tant'oltre però basta una persona che ti crea questo stop emozionale che ti dà fastidio, ti dà fastidio, ti dà fastidio veramente, vieni qua e affronta e te faccio leggere quello che scrivi, se sei tu che lo scrivi, ma lo sai che non sei sempre tu che lo scrivi e denunciami, ti prego, almeno ci incontriamo da qualche parte. Bene, ti chiedo scusa, oggi come sempre apriamo la trasmissione.